Ritorno alle radici, un viaggio a ritroso per esplorare l'influenza dell'arte iberica su Pablo Picasso attraverso 200 traquadri, sculture, oggetti esposti al centro d'arte Boutin nella città di Santander. La mostra, che nasce dalla collaborazione con il Museo Picasso di Parigi, presenta anche una selezione di capolavori della collezione d'arte iberica del Louvre, una delle più importanti al mondo. Questa è la prima volta che esploriamo per un periodo così lungo questo rapporto tra Picasso e le sue radici spagnole e su tutte le radici andaluse. Cosa dunque ha ispirato Picasso nel suo percorso artistico? È un'arte arcaica della protostoria espanica, che Picasso scopre nel Museo del Louvre e che avrà un tale impatto sulla sua persona e sulla sua opera da aiutarlo in quel momento di piena trasformazione artistica, da una forma neoclassica per così dire, al proto-cubismo. Quindi un'arte che curiosamente più di 2000 anni fa sarà un contributo fondamentale alla nascita delle avanguardie artistiche del XX secolo. Con la mostra Picasso Ibero, il centro d'arte Boutin focalizza l'attenzione sugli aspetti meno conosciuti dell'opera dei grandi maestri dell'arte moderna, dopo le mostre di Joao Miró e Alexander Calder. Allo stesso modo, mettendolo in relazione con l'opera di Picasso, la mostra si propone di divulgare l'arte dei popoli iberici presso un pubblico più ampio.